Oggi è stata veramente una bellissima esperienza, un bellissimo laboratorio legato al storytelling stop motion con Michaela Barbuzzi, dove con la classe prima abbiamo un po' messo in pratica tutto ciò che avevamo appreso durante il suo corso di formazione, quindi siamo partiti con i Lego, abbiamo costruito i bambini, hanno costruito il loro posto speciale e dopo attraverso Michaela abbiamo realizzato lo stop motion. È stata un'esperienza molto bella perché i bambini con la loro creatività hanno tirato fuori veramente quelle che sono le loro emozioni e i loro posti speciali. L'esperienza è stata oltre che bella anche molto inclusiva perché ha permesso la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i bambini e questa è a nostro parere un'esperienza molto formativa sia per noi, è stata un'esperienza molto formativa sia per noi che per i bambini stessi. La mia classe invece, la terza A, aveva già iniziato questo percorso sempre con il posto speciale realizzando dei disegni scrivendo anche le loro emozioni quindi sul posto speciale o la persona speciale e hanno realizzato anche un piccolo libretto e poi oggi con la formatrice Michaela hanno costruito pure loro con i Lego il loro posto speciale o la loro persona speciale e poi hanno visto realizzato questo cartone animato che le ha entusiasmati tanto e soprattutto erano contenti perché in gruppo hanno costruito proprio queste storie e questi personaggi.